Tiapri su... Canta roba! Canta! Ma tiapri su cosa da fare discorsi non son bravo. Perché prima è il stile. Se non son tutto su... Eh no, ma io gosto gli agli ultimi stile. No, parli di scherzi. Intanto partirei con ringraziare sicuramente tutta la società anche in mana, anche in calcio, anche in comune. Tutte le persone che lavorano intorno a noi, tutte le persone che comunque ci danno una mano, ci danno il permesso, ci danno l'aiuto di poter coltivare questo sogno che stiamo vivendo comunque tutti quanti. Comunque io ringrazierei queste persone. Da partire dal primo all'ultimo, senza fare nomi, ovviamente si ringrazia tutti quanti. Seconda cosa, sono comunque onorato di essere un giocatore dell'immana calcio, di essere di limana, quindi ha maggior ragione. Quindi, bisogna dire, mi auguro che la squadra farà un giro di ritorno all'altezza del giro dell'andata, minimo, e di quindi poter vincere questo campionato e poter dare a questa società finalmente una categoria che sicuramente gli compiate un po' di fusion. basta. Bravo! 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 reviewing partner Grazie a tutti